Purtroppo, purtroppo, questi professionisti del disordine, come è successo a Francoforte un paio di mesi fa, del resto non è, è quasi impossibile evitare che questo succeda, a oggi con queste regole. Quasi impossibile evitare che questo succeda? Ma perché hanno stato stati espressi? No, uno potevamo decidere di applicare uno Schengen e magari non farli entrare. Ma con le regole di adesso ho detto, ecco, le regole di adesso. Seconda cosa, potremmo non dargli il centro. Benissimo, volete fare una manifestazione, sapete che c'è? C'è il Parco Nord, chiudiamo il Parco Nord, andate lì, manifestate all'interno del parco, tanto al massimo cosa fai? Faccio un albero, mi dispiacerà tantissimo per l'albero, però voglio dire, abbiamo dei limiti. Non si poteva fare così, Guetta, non si poteva avere, perché? No, perché sarebbe stato guerriglia urbana, incontrollata, perché se tu gli vietavi il centro, a parte che, ripeto, la manifestazione non era loro. Esatto. Qua c'erano 20.000 persone che hanno manifestato, quindi gli organizzatori erano di altri, loro erano al centro di questa manifestazione. Vabbè, questa è un'interpretazione.